C'è Giacomina di Salvo che è nata in Sicilia e c'è Eden G che lavora in Francia, è la stessa persona che ha avuto fortuna e qualche riscontro scegliendo lo pseudonimo Eden DSG e così ha esposto le sue opere. È nata però in Sicilia a Gagliano Castelferrato, lì nasce e lì matura la sua sensibilità, il suo sentimento profondo che è proprio dei siciliani quando sentono il mito e lo vediamo nei riferimenti alle architetture classiche. E poi però improvvisamente si allontana e sembra come trasferire quella esperienza della sua terra d'origine in qualcosa che diventa una pura emozione e non vuole rappresentare nulla di pittoresco, di locale o di siciliano. È un linguaggio assolutamente contemporaneo, è un linguaggio di una visione, è un'espressione di rinascita. La sua vu patogenica insomma Giacomina di Salvo non è un artista ma due una che viene dalla Sicilia e l'altra che arriva in Francia e attraverso questo ponte fra due mondi lontani manifesta una sua capacità di far convivere esperienze diverse in una forma che non ha rapporto con nulla non è legata a nessuna ricerca o esperienza a cui si possa essere ispirata è dentro di sé che trae l'ispirazione Giacomina di Salvo GBS